I numeri dell'interporto di Padova, 350.000 metri quadrati, sono da record nel panorama italiano, per di qui passano 400.000 container all'anno, 8.000 treni lungo i 18 binari interni e 2.000 camion al giorno, ma la sfida con il mercato è quotidiana e in continua evoluzione su tutti i fronti, quello della movimentazione delle merci ma anche della tecnologia. Dobbiamo essere veloci, il mondo va verso questa direzione, il tempo è costo e siccome siamo al servizio di una delle più grandi zone industriali italiane, siamo riusciti a connetterla dal punto di vista ferroviario e trasportistico con tutto il mondo. Il collegamento ferroviario con Nord Europa e maggiori porti italiani e internazionali vuole tecnologia, ecco allora il primo progetto di intelligenza artificiale. Siamo riusciti ad avere un tempo medio di entrata nel termine, di operatività che va dalla pesatura del container alla caricazione del container sul treno, sul camion, tutto compreso siamo sotto i 30 minuti e vi posso garantire che nel nostro settore è un grande risultato. Inoltre è stata drasticamente ridotta la sosta esterna dei camion che rimanevano in attesa circa mezz'ora. Quindi pensate a un punto di vista di impatto ambientale, 2000 camion che stanno mezz'ora in meno col motore acceso sia in ingresso che in uscita. E poi il nuovo accordo con l'Agenzia delle Dogane per nuovi servizi, così in pratica una gran parte dell'area dell'interporto diventa una grande dogana. Il corridoio doganale vuol dire rafforzare la collaborazione con i porti italiani, Genova in primis ma anche la Spezia, e quindi spostare velocemente le merci in sicurezza dal porto qui a Padova. Anche per la dogana è più sicuro controllare le merci in un interporto. Infine i droni che entrano a pieno titolo per rendere più sicure le operazioni. Perché ci permettono anche di aumentare la sicurezza, di monitorare quelli che sono i movimenti, ma anche di svolgere funzioni molto semplici come quello dell'inventario che richiedeva molto tempo.